Ma lo sapete che io con questo film mi sono divertito davvero da matti? Non ci avrei scommesso neanche un centesimo, eppure è successo. Adesso sigla e poi ne parliamo. Ed allora, bentrovati in questa nuova video recensione. Prima di continuare vi ricordo le cose importanti per me e per il mio canale. La prima, iscrivetevi e attivate la campanella, in modo tale da aiutarmi a far crescere ancora di più il canale ed inoltre, in modo tale da rimanere costantemente aggiornati su tutti i prossimi contenuti. Quindi cliccate sul tasto iscriviti e attivate la campanella. Inoltre, se mi volete supportare ulteriormente a costo zero, mettiamola così, per fare qualunque vostro acquisto su Amazon, io vi invito ad utilizzare il link che trovate qui in descrizione, perché è un mio link di affiliazione. Se voi lo utilizzate per fare qualunque vostro acquisto su Amazon, non necessariamente a tema cinema, a voi non cambierà completamente nulla, vi si aprirà una schermata Amazon perfettamente normale, non spenderete un centesimo in più, ma una piccola parte della vostra spesa sarà girata da Amazon al sottoscritto. Quindi questo è un altro modo che avete per potermi supportare, per poter supportare il canale. Qualunque vostro acquisto su Amazon, io vi invito a farlo cliccando sul link che trovate in descrizione. Ma passiamo a parlare appunto del film che voglio recensire oggi, un film che non è che attendessi con chissà quale curiosità, soprattutto all'inizio, in realtà, quando è stato annunciato, quando è stato detto che sarebbe stato realizzato, io non è che facessi salti di gioia per un motivo ben preciso. Perché? Perché è il secondo capitolo di un film al quale io sono profondamente legato, da un punto di vista affettivo, da un punto di vista nostalgico, perché è un film con il quale sono cresciuto negli anni 90, io sono nato alla fine degli anni 80. Quel film, il primo capitolo di questo, che probabilmente potrebbe diventare un franchise, chi lo sa, è un film al quale sono straordinariamente legato. Quindi non facevo i salti di gioia, però è anche vero che nel momento in cui è stato annunciato, poi sono cominciato a uscire fuori le prime immagini, il primo trailer, la curiosità inevitabilmente è aumentata ed infatti non vedevo comunque l'ora di vedere che cosa avrebbero avuto la capacità di realizzare. Come potete vedere dal titolo del video, oggi parleremo di Space Jam New Legends, che in America tra l'altro è stato sottotitolato come A New Legacy, ma poco importa, stiamo parlando del secondo capitolo di Space Jam. Chiaramente non farò nessun tipo di spoiler, perché il film è comunque uscito da molto poco tempo, quindi molti di voi potrebbero ancora non averlo visto, quindi state tranquilli, parlerò in questa recensione senza fare spoiler, potete guardarla tranquillamente. Di cosa parla questo film? Di cosa parla Space Jam New Legends? Innanzitutto ha come protagonista un'altra grande stella della palla a canestro. Se in Space Jam avevamo Michael Jordan, che era un'icona degli anni 90, della fine degli anni 80 e degli anni 90, in questo caso, in questo film, abbiamo un'altra grande stella, cioè Lebron James. Lebron James in questo film ha un figlio, insolutamente una famiglia, ma ha un figlio con il quale i rapporti non sono proprio, come dire, i di 10, ma per un semplice motivo. Perché? Perché Lebron James vorrebbe che il proprio figlio percorresse la sua stessa strada, quindi in maniera tale da poter diventare un grande campione di pallacanestro, perché comunque il figlio ha del talento, ma in realtà suo figlio ha altre ambizioni, perché è un grande appassionato di informatica, un grande appassionato di videogiochi. Lui stesso ne ha sviluppato uno, tra l'altro, un videogioco che in qualche modo si basa sul basket, anche se poi in realtà non è basket vero e proprio, e quindi vuole diventare un campione di videogame. La storia cambia, la loro vita cambia, nel momento in cui il bambino viene rapito da una sorta di entità informatica malefica, un algoritmo malvagio, interpretato tra l'altro in questo film da Don Cheadle, bravissimo, ma ci arriveremo, viene rapito il bambino e quest'algoritmo in qualche modo chiede, come riscatto al padre, a Lebron James, il voler giocare una partita di basket all'interno di quello che poi è lo stesso videogioco ideato dal figlio, e in qualche modo impone a Lebron James di costruirsi una squadra di basket. Inutile dire che la squadra di basket sarà costruita e sarà costituita dai Looney Tunes. Allora, io mi fermo qui nel raccontare la trama, innanzitutto perché non voglio fare spoiler, e poi perché tutto sommato la trama in questo film è la cosa meno importante sulla quale concentrarsi, perché è un film che, come il primo del resto, non è che gioca la propria, come dire, i propri punti di forza sulla storia, sulla sceneggiatura, assolutamente no. Quindi mettiamo da parte la trama, così come bisogna mettere da parte la trama anche per il primo Space Jam. Perché? Perché, come sempre anche si succede in questi casi, è ovvio che anche io stesso guardo a quel film con un velo di nostalgia, con un velo di malinconia, guardo Space Jam con gli occhi di quel bambino di 25 anni fa che lo vide per la prima volta, e quindi è ovvio che il mio giudizio in parte viene influenzato da tutto questo. Poi in realtà, se io mi concentro nel guardare in maniera oggettiva Space Jam, mi rendo conto di quanto sia un film davvero mediocre, per alcune cose addirittura scadente, la storia non ha né capo né coda, gli stessi attori non è che brillino per bravura in quel film, anche lo stesso Michael Jordan, quindi bisogna sempre approcciarsi ai film con i quali siamo cresciuti, o in maniera oggettiva, valutandoli per quelli che sono, oppure lasciandosi andare alla malinconia, ripeto, all'affetto, ben consapevoli però che li stiamo guardando in maniera non oggettiva, in maniera soggettiva, come dire, influenzati da quello che è stato il contesto che ci ha portati a guardarli per la prima volta, il fatto di essere bambini. Io mi sono approcciato a questo secondo capitolo, ripeto, con iniziale diffidenza e poi con una certa curiosità, e devo dirlo, è un film che mi ha divertito, e mi ha divertito anche tantissimo, non ci avrei scommesso un centesimo, come ho detto nell'intro di questo video, non avrei pensato mai che avrebbero avuto la capacità di realizzare qualcosa che possa essere anche paragonabile al primo capitolo, ma anche proprio da un punto di vista empatico, da un punto di vista del coinvolgimento emotivo. È ovvio che, anche in questo caso, ripeto, non dobbiamo andare a prendere in considerazione la storia, la trama, la sceneggiatura, mettiamole da parte, di solito faccio dei cenni anche nelle altre video recensioni, ma in questo caso no, perché la storia non ha nessun senso, è una storia che fa acqua da tutte le parti, ma va benissimo così. Ma questo film, secondo me, invece, è stato in grado di raggiungere due obiettivi ben precisi. Il primo, innanzitutto, è quello di realizzare, aver realizzato qualcosa che possa essere comunque appetibile, che possa essere in grado di entusiasmare i ragazzini e i bambini di oggi. Tra l'altro, voglio anche specificare, voglio ricordare come i Looney Tunes, per quanto siano ancora particolarmente in voga negli Stati Uniti, qui in Italia, in realtà non tantissimo. Anche i cartoni stessi non li propongono più come una volta, non li propongono più come una ventina di anni fa. Quindi, questo mi porta a dire che comunque c'era un rischio, soprattutto per il mercato estero, non tanto per gli Stati Uniti, dicevo, perché negli Stati Uniti Looney Tunes sono ancora in voga, sono particolarmente importanti anche nella cultura dei ragazzini di oggi. Però nelle restanti parti del mondo, anche in Italia, un po' meno. Eppure, nonostante tutto, Specieme sta avendo un'ottima risposta anche qui da noi. Probabilmente, questo è dovuto al fatto appunto che il film funziona proprio nel riuscire ad entusiasmare i ragazzini, ma ricordiamoci che c'è l'altro versante. È un film che riesce anche a strizzare l'occhio e riesce in qualche modo a conquistare coloro che erano bambini 25 anni fa, come il sottoscritto. Quindi, io sono cresciuto con il primo Specieme, vedo questo film e in qualche modo riesce comunque ad entusiasmarmi perché ha uno spirito simile al primo. Tra l'altro, tra l'altro, tra oltre al fatto che riesce in qualche modo a costruire una giostra di colori, una giostra di divertimento con quelli che sono i personaggi dei Looney Tunes e con Lebron James su tutto quello che abbiamo detto, in questo film ci sono anche tantissimi easter eggs, tantissimi riferimenti, tantissime citazioni a quelli che sono i film della Warner Bros. Warner Bros. che tra l'altro è uno dei, come dire, punti importanti di questo film, è la casa di produzione dello stesso Space Jam, ma non soltanto, di tante altre pellicole, soprattutto degli anni 90 e in questo film ci sono davvero tantissime citazioni a dei film di quel periodo ed è ovvio che il bambino di oggi, il ragazzino di oggi difficilmente coglierà queste citazioni, difficilmente coglierà questi easter eggs, questi riferimenti, ma questi riferimenti verranno colti in pieno da chi è cresciuto proprio in quel periodo, chi è cresciuto negli anni 90, chi si è appassionato al cinema, chiaramente, quindi è davvero un modo per giocare con gli spettatori, sia i bambini, ma anche gli adulti o comunque, ripeto, coloro che erano ragazzini negli anni 90 ed è, secondo me, riuscito alla perfezione, tutto questo riesce alla perfezione, ci sono dei problemi, ci sono delle problematiche soprattutto per quanto riguarda la presenza in scena di tutta una serie di personaggi, non voglio fare spoiler, ma chi ha visto il film lo capirà, durante la partita, ecco, gli spettatori della partita che si svolge durante il film diciamo che non sono proprio il massimo della vita, però in realtà mi ha divertito anche questo, mi è sembrato davvero una sorta di presa in giro autoironica da parte del film, da parte della Warner Bros, tutto quello che viene messo in scena è a mio modo di vedere voluto, perché non posso credere che la Warner Bros sia così superficiale nel realizzare determinate cose, ripeto, chi ha visto il film lo capirà, gli spettatori della partita, quindi credo che sia davvero un'autoironia che si respira durante tutto il film e che in qualche modo vuole portare a divertire gli spettatori un po' più grandicelli, gli spettatori più adulti. Il film poi, ripeto, funziona da un punto di vista visivo, da un punto di vista estetico, gli effetti speciali, è chiaro che tra l'altro ci troviamo in una situazione oggi che è lontana anni luce da quella che avevamo negli anni 90, ma è anche normale, le tecnologie sono diverse, diciamo, il digitale, la tecnologia digitale, quindi gli effetti speciali di questo film sono nettamente superiori rispetto a quelli del primo Space Jam, anche se quelli avevano un, come dire, un fascino tutto particolare proprio per quello che era il contesto nel quale erano stati realizzati, anche se, bisogna dire, anche in quel caso non è che ci troviamo di fronte al film migliore in assoluto per quanto riguarda la tecnica mista, live action e animazione, perché basti pensare che soltanto qualche anno prima, alla fine degli anni 80, era stato realizzato chi ha incastrato Roger Rabbit di Robert Zemeckis, è quello sì che era un capolavoro davvero, quindi bisogna sempre contestualizzare le cose, però in questo film, devo dire, mi è piaciuto tantissimo il comparto visivo, il comparto, appunto, degli effetti speciali, mi sono piaciute molto di più le animazioni in 2D rispetto alle animazioni in 3D, perché ci sono questi due aspetti, ripeto, non è spoiler, perché tra l'altro si vede anche nel trailer, però sono rimasto maggiormente colpito dalle animazioni in 2D, però niente di, come dire, scandaloso neanche per quanto riguarda le animazioni in 3D. Lebro James, tutto sommato, se la cava, non è che sia un atto, chiaramente non ha fatto una prova da Robert De Niro o da Marlon Brando, ma non lo aveva fatta neanche Michael Jordan, ripeto, negli anni 90, se la cavicchia, per essere un giocatore di pallacanestro, per non essere un attore, professionista, credo che sia la sua prima volta da attore, non vorrei sbagliarmi, casomai scrivetemelo tra i commenti, ma per non essere un attore, tutto sommato, se la cava, buoni anche gli attori coprotagonisti, il bambino, la famiglia, Don Cheadle, come dicevo prima, probabilmente Don Cheadle in questo film è il personaggio maggiormente riuscito o comunque anche l'attore che se la cava meglio, anche perché è un grandissimo attore Don Cheadle ed è lui che interpreta l'algoritmo cattivo è il villain della situazione e mi è piaciuto davvero era da un po' di tempo che Don Cheadle tra l'altro non in qualche modo non veniva coinvolto in un progetto di così largo diciamo largo respiro credo sia stato coinvolto nel Marvel Cinematic Universe ma non lo seguo quindi non ne sarei così sicuro ma lui è un grandissimo attore davvero a prescindere da tutto quindi mi è piaciuto anche lui da un punto di vista autoironico come si è preso in giro ha voluto costruire questo villain un po' sopra le righe scansonato inquietante in alcuni aspetti quindi davvero bravissimo probabilmente lui è davvero il migliore in questo film da un punto di vista attoriale un film che funziona è un film che diverte è un film che intrattiene dura poco meno di due ore all'incirca un'ora e 55 più o meno ma davvero vola via in maniera rapidissima in maniera tranquilla non ho sentito in nessun modo la durata di questo film quindi anche da questo punto di vista credo che dai bambini sarà piaciuto ancora di più rispetto agli adulti è un film che si propone come dire l'obiettivo di intrattenere di divertire di divertire i bambini e di divertire gli adulti e c'è riuscita alla grandissima non ci avrei scommesso un centesimo eppure mi devo ricredere l'operazione secondo me è riuscita ripeto non siamo di fronte ad un capolavoro non siamo di fronte ad un film eccezionale è un film che per gli adulti di oggi probabilmente rappresenterà poco negli anni a venire cioè non rimarrà nella memoria collettiva non so se diventerà un film generazionale per i bambini di oggi non credo non credo perché diciamo che la situazione il contesto oggi è molto diverso ci sono tantissime altre fonti di intrattenimento per i bambini e per i ragazzini di oggi come dicevo soprattutto perlomeno in Italia i Looney Tunes non hanno più quella grande potenza da un punto di vista dell'intrattenimento come l'avevano invece negli anni 90 però dai tutto sommato il film riesce ad ottenere il risultato che si era prefissato cioè quello di intrattenere di divertire di far in qualche modo anche emozionare un minimo i ragazzi di una volta quindi i bambini di una volta che oggi sono adulti e credo che questo sia stato raggiunto in maniera ottima in maniera credo perfetta quindi non potevo chiedere qualcosa di diverso da questo film io non cercavo sicuramente la complessità narrativa non cercavo la perfezione da un punto di vista della sceneggiatura non cercavo niente di tutto questo volevo soltanto passare un paio d'ore di divertimento un paio d'ore magari anche con delle strizzatine d'occhio proprio ai bambini che sono stati o meglio le persone che sono stati bambini negli anni 90 e quindi tutto questo l'ho ottenuto tutto questo l'ho trovato quindi per me Space Jam New Legends è un'operazione riuscita non ci avrei dato davvero neanche un centesimo eppure mi sono sbagliato mi sono dovuto ricredere e sono contento di averlo fatto adesso non rimane che dire a voi la vostra opinione fatemi sapere che cosa ne pensate se lo avete visto se vi è piaciuto se non vi è piaciuto fatemi sapere se magari quelle che sono le mie osservazioni in qualche modo vi ci ritrovate oppure se invece non vi ha comunicato niente tutte le vostre opinioni fatemele sapere qui sotto tra i commenti perché sono curioso di conoscerle e sono curioso di leggerle io come sempre vi ringrazio per il tempo che decidete ogni volta di regalarmi guardando i miei video vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per potermi aiutare a farlo crescere sempre di più e rimanere costantemente aggiornati su tutti i prossimi video ed inoltre se mi volete ulteriormente supportare se dovete fare degli acquisti su Amazon vi invito a partire dal link che trovate in descrizione quindi cliccate su questo link e fate qualunque vostro acquisto noi ci becchiamo ad un prossimo video ad una prossima video recensione oppure anche nella mia pagina Facebook Doctor Cinema alla quale vi consiglio sempre di iscrivervi io vi auguro una buona continuazione di giornata e ci vediamo presto ciao a tutti ciao a tutti